La mia è venuta a mancare quando io e Polly eravamo piccoli. Non ricordo che aspetto avesse. Figuriamoci il suono della sua voce. Sai, mi sono sempre chiesto se possa mancarti qualcuno che non hai mai conosciuto. Che sciocco. È ovvio che non è possibile. Per Dindirindina! Quell'affare è super gigantesco! Che c'è? Siamo venuti per scalarlo! Frena, frena! Non ci credo che fai sul serio. Ricordi quando mi hai detto che non avrei potuto fare niente contro il tuo iniettore? Cosa ti ho detto? Quindi non ricordi proprio nulla, eh? Che ne pensi, Leone? Per te questa storia ha senso? No, neanche tu sei d'aiuto. Ecco, l'ho appena bevuto. Bevuto cosa? Il congegno è andato già. Oh, e perché hai un piccione qui dentro? Ok, è solo l'ovie alla mia coinquilina. Come posso fare? È strano. Questo è male. Ma avere un piccione in casa? No, no, è fantastico. È la scienza. Ecco qua. Ha appena bevuto una formula che utilizza un CRISPR-Cas9 per riordinare il suo DNA a livello molecolare. La scienza spacca. Ehi, Char, che succede? Brutte cose, brutte cose accadranno. Perché? Che cosa c'è? Ray non credeva che stessi male e ha mandato Schwartz a casa tua, vestito da idraulico italiano, per installare delle videocamere. A casa mia? Sì, Ray e Schwartz è tutto il giorno che ti spiano. Guardano tutto, compreso mentre mangi la zuppa. Ma quello era un mio momento privato con la zuppa. E ora Ray ha dato un microfono a Jasper, vi vedrete al parco e ai diner e lì proverà a farti ammettere che in realtà non stai male. Ma io sto male, perché dovrei... ...una storia molto buffa. Quando ero piccolo, io e gli altri cuccioli vivevamo con una famiglia. Era piena di burloni che volevano giocare a nascondino e io dovevo sempre accecarmi. Metti sotto il piccoletto, no? Hanno cercato di chiudermi in uno scatolone, in un cassonetto. Per quanto ci provassero, io li ritrovavo... Se volete girare uno spot, vi suggerisco di sfruttare il sensuale talento e celebrità che avete proprio cui. Angel, tu sei una porno star. Star, star del porno. I peccatori più arrabbati butteranno giù i muri a rondellate per entrare. Noi un porno come spot non lo giriamo. Perché no? Il sasso vende, tira. Filmate me, che ci do dentro con il signor Belle Parole con la voce radio da paura e sarete subito inondati da dannati desiderosi di alloggiare in questo strampalato hotel. Ah ah, ti piacerebbe, scorda!